Andiamo, portiamo Finli alla stazione. Vuoi che venga con voi? Beh, pensavo di fare il giro lungo il fiume. Io non sono un maniaco dei treni, sono un appassionato di ferrovie. È stato un treno a farci incontrare. Non puoi dire un treno quando parli davanti a Eric. Devi dire quale, quando è stato costruito, quante ruote aveva, dove si fermava. È una modifica che rende automatica l'uscita del predellino di scuola. Ho deciso che gli manderò un messaggio. Qualcosa che non potrà ignorare. Le due vie del destino. The Railwaymen al cinema.